amici buonasera dall'adriano caprerese di spoltore comincia ufficialmente oggi la stagione dello spoltore calcio quarta stagione nel massimo campionato regionale abruzzese quinta stagione per il capitano daniele di camillo che salutiamo ben ritrovato daniele a voi ben ritrovati a voi allora comincia questa nuova avventura stagione post covidi chiamiamolo così dopo cinque mesi di in attività che stagione si prospetta dopo quasi sei mesi diciamo che stagione si prospetta si prospetta secondo me non incognita però comunque iniziare dopo tanto tempo è sempre un po una situazione particolare e poi soprattutto quest'anno questo campionato con 44 squadre che hanno fatto categorie differenti da questa in passato quindi niente come sempre ci rimbocchiamo le maniche cerchiamo di allenarci più duro possibile ecco hai detto bene quest'anno non sarà un campionato d'eccellenza sarà a tutti gli effetti un campionato una di due e si per come ho detto prima per l'aquila pezzano chieti e lanciano poi come sempre la torrese che ogni anno fa buone squadre e però diciamo che comunque poi c'è l'incondita delle delle giornate delle quattro giornate in più delle 38 quindi sarà un campionato un po forse strano dove anche inizio girone di ritorno se ti trovi in situazioni tranquille comunque devi spingere fino alla fine allenatore nuovo squadra profondamente rinnovata tanti big sono andati via però sono arrivati altre tanti giocatori importanti se c'è quest'anno come non mai un'area di rinnovamento tra staff tecnico e giocatori e la società ha cercato di fare al meglio tutte tutte le cose che si che si potevano fare in sede di mercato diciamo così secondo me è venuta fuori anche una dischietta squadra poi noi abbiamo la fortuna di avere quei ragazzi che comunque la domenica ci danno ci danno una mano e sono importantissimi ultima domanda daniele poi ti lasciamo al campo quella dello scorso anno doveva essere l'ultima stagione per te poi c'è stato il covid un po di ripensamenti adesso c'è il doppio ruolo giocatore capitano allenatore in seconda però un di camillo così potrebbe giocare fino a 40 anni sì fisicamente toccando toccando ferro non ho mai avuto grossi infortuni anche negli ultimi anni anzi poi con l'esperienza si si cerca di lavorare meglio sul sul proprio fisico nella vita privata però il doppio impegno lavorativo calcistico alla lunga si fa sentire se non ci fosse stato il covid al 99,9 per cento sarebbe stato l'ultimo anno non diciamo niente dai quest'anno non voglio dire niente mi voglio godere quest'annata e cerchiamo di arrivare il più in alto possibile sperando che i tifosi dello spoltore si possono godere ancora per tanti anni un capitano così grazie daniele buon lavoro e ci risentiamo nei prossimi giorni grazie costa buona serata grazie